Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole, oggi ragazzi prodottino della BAC da venire assolutamente a scoprire insieme Eccoci qui ragazzi pronti all'unboxing di questo prodottino assolutamente niente male della BAC Produzione cinese ragazzi, prodottino economico, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del Highline XL Cos'è questo Highline XL? Sono prodotti della BAC che vengono dislocati come produzione in Cina e quindi riescono ad avere un prezzo di mercato accessibile direi quasi a tutti ragazzi Praticamente a tutti, mantenendo comunque una qualità costruttiva e un assemblaggio di precisione veramente minuzioso ragazzi Minuziosa la parola esatta Voi non volete vedere la scatola? Eccola qua che comunque ve la faccio vedere perché ve la meritate Mi avete chiesto proprio di farvi vedere la scatola ragazzi Eccola qua E ve la vedete ma andiamo a vedere il coltello che non si apre di qua ma si apre di là ragazzi Neanche da che parte si apre? Di qua Bene ragazzi imparo a aprire le scatolette col mio pollice opponibile Eccolo qua Abbiamo dentro anche il fogliettino se non erro Sì fogliettino Eccolo qua Della BAC ve lo leggete voi Ve lo leggete voi Tac e tac Fatevi gli screenshot Leggetevelo quando siete in bagno ragazzi Invece di continuare a guardare Facebook e Youtube Vi leggete il bel bigliettino della BAC Eccolo qui ragazzi Eccolo qui Prodottino ragazzi che sinceramente io non conoscevo Non l'avevo mai visto Guardate la centratura Centratura lama Ma qualcuno ha da dire qualcosa su questa centratura lama? Come al solito ragazzi Prodotti cinesi sì ma vengono prodotti veramente Con una cura della precisione dell'assemblaggio Veramente micidiale Micidiale ragazzi Ragazzi lo apriamo Vi faccio vedere cosa salta fuori Eccolo qui Ma prima di farvi vedere cosa salta fuori Ragazzi sentite sentite Ha questo scatto del liner Che è veramente spettacolare Tantissima roba ragazzi Una bella mozzetta ragazzi Una mozzetta Su bisellatura concava ragazzi Non è una flat È una concava Questa taglia Veramente in modo spettacolare ragazzi Qua ci andate a fare un bel taglio pulito Un coltello da taglio Bello robusto ragazzi Grande eh Grande aperto sono 22.5 cm Quindi è un coltello grande Con questa lama di 9.5 Su uno spessore di 3.8 In acciaio di 2 Con questa finitura dark stone wash Ragazzi a me piace molto eh Bella finitura Ragazzi prodottino Veramente economico Siamo sotto le 60 euro Ragazzi È un prodotto realizzato bene Lama in D2 Manicature con guancette in alluminio Alluminio anodizzato e micarta Ma tanta roba ragazzi Ma tanta roba Davvero 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 Ragazzi È veramente un bel prodotto eh Veramente Veramente Un bel Prodottino Attenzione che vi faccio vedere anche una cosa Dentro Dentro Nell'alluminio anodizzato Avete le cartelle in acciaio Eccole là che le vedete Quindi non è solo alluminio anodizzato Ma è Ha le cartelle in acciaio Table test Lo stiamo facendo ragazzi Lo faccio così In tranquillità Perché l'ho provato prima Comunque per vedere se restava Il liner ingaggia bene E tiene bene Ragazzi Costruzione Aperta Ragazzi Ripeto È un bel prodotto Micarta E alluminio anodizzato Con le cartelle in acciaio È davvero un bel prodottino Movimento Su cuscinetti A sfera Ragazzi Di una fluidità Imbarazzante Cioè Ma ci rendiamo conto ragazzi C'è Una fluidità Questo movimento Imbarazzante Si chiude praticamente Una volta che l'avete sbloccato Per inerzia Per inerzia Va a chiudersi ragazzi Tanto che sono Scattanti I cuscinetti A sfera Davvero Tanta roba ragazzi Tanta 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 roba Ragazzi Il coltello In mano sta bene È molto comodo Riuscite a Impugnarlo Anche con i guanti Visto che comunque La manicatura È molto generosa Jinping Sulla lama Nel posto giusto Potete andare A lavorare bene Questo stile Rasoio Anni 50 Ragazzi Per me È spettacolo Una mozzettina È veramente bella Andiamo a un particolare Che mi è piaciuto molto Ragazzi Che è praticamente Il flipper Il flipper Ha un bel grip Quindi lo prendete Senza problemi Ha un ottimo grip Provato anche con i guanti Ma la sua particolarità Secondo me È veramente geniale Importante Diciamo non geniale È che è tutto smussato Quindi in tasca Non avete una punta Che vi perfora La coscia Ma è tutto smussato Ragazzi È davvero Tutto smussato Il coltello Funziona Veramente bene Un difettino Che gli ho trovato È qua Vedete La guancettina Non è Vedete Qui Non è proprio Al pari Con la guancetta L'accoppiamento Della guancettina In micarta Non è al millesimo Non è al millesimo Con la guancettina In alluminio Dall'altra parte Vedete Che è praticamente La stessa cosa È praticamente Un Un niente Ragazzi Veramente un niente Però io ve lo segnalo Comunque parliamo di un prodottino Economico Ragazzi Ripeto Qui non arrivate a 60 euro Di coltello Clip Molto bella Anche qui Dark stone washed Potete ovviamente Ribaltarla Di qua O di là Ma Vi devo far vedere Anche come taglia Col nostro blocchettino Ragazzi Eccolo qua Così andiamo A vedere Come taglia Il nostro coltello Allora ragazzi Il taglio C'è È bello Pulito Però Non è setoso Ve lo dico Ragazzi Non ha quel taglio Setoso Secondo me Basta una stroppatina Ovviamente Come avete visto Taglia bene Però non ha quel taglio Proprio a seta Ragazzi È un taglio pulito Ha un taglio pulito Vedete che lascia Pochi pelucchini Sulla carta Ha un taglio Abbastanza pulito Ma non è setoso Non è proprio Di seta Diciamo Una piccola Stroppatina E secondo me Il coltello Diventa Un rasoio Da barba Anche perché Ripeto Bisellatura conca Ma ragazzi Ci andate veramente A tuo nazza Un bel coltello Da taglio Potete prenderlo Anche avanzato Ragazzi Davvero Un bel prodottino Costruzione aperta Per poterlo pulire Tranquillamente Ma la cosa Ragazzi Da provare È veramente L'apertura E la chiusura Perché è talmente Fluido Ragazzi Che ci state A giocare Le ore Ci state Veramente A giocare Le ore Con sto coltello Tantissima roba Tantissima roba Cuscinetti a sfera Che viaggiano Veramente Alla velocità Della luce Il liner Che tiene Ve l'ho fatto Vedere Ragazzi Foro Per il cordino Se lo volete Mettere Vi ricordo Che questo qua È un unboxing Ragazzi Quindi il coltello Io non l'ho Usato Se non per Picchiettarlo Sul tavolo E per tagliare A due foglietti Di carta Ragazzi Coltello Che secondo me Se vi piace La linea Del rasoio Ragazzi Un bel razzo Una bella Mozzetta Con materiali Ragazzi Alluminio anodizzato Micarta D2 Di pregio Per il prezzo Del coltello Ragazzi È un coltello Che per togliervi Un bello sfizio Avere un bel coltello Da taglio Secondo me Ragazzi Potete tranquillamente Prendere Perché il marchio È una garanzia Ok Produzione cinese Però ragazzi Il coltello È realizzato Veramente Bene Andiamo alle conclusioni Finali Back Highline XL Ragazzi Coltello grande Se vi piace Il genere Mozzetta Questa è una Mozzetta Gigante Da prendere in considerazione Perché per il suo prezzo Di vendita 58,95 Ragazzi È realizzata Veramente bene E in più Ragazzi Movimento Da paura Da paura Qui iniziate A giocarci Ragazzi E finite a Natale Perché diventa Veramente Una droga Crea di Dipendenza Il movimento Di questo coltello Ragazzi Ovviamente C'è anche La versione Con lama Chiara C'è anche La versione Più piccola Non quella XL Andate a vedere Sul sito Che c'è anche Tanta Altra Roba Ragazzi Per il prezzo Di vendita Se vi piacciono Le mozzette Queste Da avere Assolutamente Ragazzi Dal back Highline XL Al parchetto Del tagliagole Tutto Buona giornata E Ciao 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 Grazie a tutti.